Ciao, lui è Alberto, produttore di vino e pittore, e vi parlerà di arte e di vino. Buongiorno e bentornati sul canale di Alberto. Continuiamo con questo tema del non avere idea. Abbiamo visto prima la non-idea all'esterno, ora la vediamo all'interno, quello che Alberto ha provato in quei giorni, in quel periodo, dentro la sua testa. Un vortice, senza fine, una spirale, che è strana, di tante idee, ma nulla di reale, diciamo, tutto molto confusionario. Un'altra cosa che volevo farvi notare, e che sarà ricorrente, man mano che andremo avanti con i quadri di Alberto, sono l'unione di più tele. Si possono notare proprio, questi sono più pezzi di tela uniti per formare una tela. Grazie a tutti.